buongiorno a tutti allora dobbiamo parlare della moto gp e delle due prove che si sono disputate oggi anzi ieri ad assen due prove contrastanti perché in mattinata era stato mar marquez a guidare le prove libere 1 della moto gp lo spagnolo della onda nella prima sessione sul circuito olandese risultato il più veloce chiudendo in 1 34 227 davanti al condazionale maverick vignales secondo sulla yamaka a 177 millesimi terzo tempo per valentino rossi anche lui su yamaha a 286 millesimi poi quinto andrea dovizioso su ducate a 410 sesto andrea iannone su suzuki a 457 caduta senza conseguenze per rio lorenzo alla curva 9 lo spagnolo della ducati comunque chiude con il settimo tempo a 584 millesimi della tottena anche franco morbidelli ottimo ottavo sulla sua onda a 593 millesimi quindi vicinissimo a a lorenzo e dall'opertura un c decimo sulla ducati a 810 millesimi nelle seconde prove libere però cambia tutto perché praticamente è maverick vignales che domina la seconda sessione di prove lo spagnolo ha fatto segnare innanzitutto 1 33 378 che è circa 900 e qualche cosa millesimi meno del tempo che ha fatto marquez e poi soprattutto mar marquez anziché arrivare primo mi arriva addirittura ottavo a 663 millesimi comunque nel mezzo abbiamo tra italiani perché dopo vignales abbiamo andrea di annone al 121 millesimi danino petrucci a 286 millesimi e valentino rossi a 401 millesimi che perde quindi una posizione rispetto alla prova del mattino però è lì quinto tempo per la oda di carl claccio a 434 millesimi e sesto andrea dovizioso rimasto entro il mezzo secondo di distacco dal leader come così jorge lorenzo settimo che quindi mantiene il suo settimo posto mentre invece mar marquez mi passa dal primo all'ottavo posto quindi il venerdì ha sorriso a maverick vignales e sentiamo cosa dice sono molto contento dei test di montmelò abbiamo lavorato molto sui piccoli dettagli che mancavano per essere un po più comodo sulla moto e siamo migliorati lo spagnolo della yamaha ha battuto tutti nelle libere di assen e infatti dice è una pista che mi piace molto anche l'anno scorso sono andato forte dobbiamo ancora migliorare qualche piccolo dettaglio gli chiedono della nuova forcella dice è molto diversa mi piace molto di più peccato non averla provata prima magari ci avrebbe risorti problemi mi sono trovato bene vediamo invece alle dichiarazioni che ha fatto valentino rossi sono abbastanza contento alla fine abbiamo montato tutti la soft per il time attack tranne marquez e ho concluso al quarto posto siamo tutti molto vicini il pesarese della yamaha ha chiuso con il terzo tempo al mattino punto e con il quarto tempo al pomeriggio e ha detto è stata una buona giornata perché ha avuto sin da subito un buon feeling con la moto qui la yamaha va piuttosto bene soprattutto le gomme lavorano bene e questa è la cosa più importante ovviamente c'è ancora tanto da lavorare in staccata e l'entrata non sono ancora abbastanza forte e poi ci sarà da scegliere la gomma sia all'anteriore che al posteriore per la gara se le previsioni si confermano buone è un sogno speriamo che duri così fino a domenica ha concluso veniamo ad andrea dovezioso sesto tempo che dice sono soddisfatto del giro veloce non tanto ho trovato tanti piloti che mi aspettavano si poteva fare meglio sono un po' sorpreso dal fatto che a metà turno con le gomme della seconda uscita siamo riusciti a fare un passo esagerato non me lo aspettavo 1 34 e 00 siamo riusciti a essere veloci però non basta dobbiamo migliorare ancora degli aspetti qualche pilota già un buon passo vediamo le previsioni sono buone aggiunto c'è tutto il tempo per migliorare vediamo alle dichiarazioni invece di jorge lorenzo che ha chiuso le libere con quasi mezzo secondo da vignales ma la cosa sembra non destare preoccupazioni queste le sue dichiarazioni non è stata una giornata bruttissima abbiamo abbastanza margine di miglioramento ha detto il maiorchino devo migliorare nell'ultimo settore non capisco ancora come fare la migliore linea per stare con i migliori la moto è un po' instabile nelle curve veloci forse anche come sedile ma se riusciamo a risolvere queste cose possiamo stare molto più avanti bene con questo concludo le prove libere vediamo oggi perché le hanno fatte ieri e oggi ci sono poi le galle garettine per la polla eccetera quindi cambieranno tante cose soprattutto tenete conto che marquez non ha usato le soft quindi aspettatevi da marquez la sorpresina oggi delle delle gare della gara per la pole position per il resto diciamo che sembra che le yamadi di rossi vadano bene gli italiani stanno facendo bene anche morbidelli era addirittura ottavo nelle prime prove poi è sceso un attimino però c'è anche lui e speriamo di fare ancora una buona gara con gli italiani come sta capitando ultimamente che non è neanche niente male perché l'altra volta dopo di lorenzo c'erano tre italiani secondo terzo quarto quindi speriamo di fare il bis magari con qualcuno al primo e lasciamo gli altri al secondo il terzo bene abbiamo detto tutto direi che adesso posso dedicarmi anche alla formula 1 e alle prove libere della formula 1 sto velocizzando perché mondiale formula 1 moto gp c'è tutto e quindi si fa quel che si può con quel che si ha ciao